Uno scambio di esperienze, evidenze scientifiche e buone pratiche finalizzate all'affermazione dei diritti delle persone con disabilità. Al Teatro Pietro Aretino, così la seconda edizione del convegno NOE. Ricercatori, docenti, medici e psicologi provenienti dall'Italia e dall'estero si sono confrontati sul tema disabilità intellettive e lavoro. È un mondo che coinvolge tante persone con difficoltà, con disabilità intellettive e anche disabilità gravi, quindi si tratta di trovare strumenti e opportunità anche nuovi rispetto a quello che le norme ci consentono. Ci vuole talvolta fantasia, creatività, ci vuole anche impegno per offrire opportunità a tutti. Io ho avuto delle esperienze di inserimenti di situazioni che sembravano impossibili, eccetera, eccetera, e una disponibilità illimitata da parte di certi imprenditori, ecco per intenderci. Quindi solitamente si pensa che l'imprenditore è una controparte dagli inserimenti lavorativi della disabilità. Non è vero, sono due protagonisti se si vuole perfezionare e realizzare il collocamento mirato. E io ho trovato persone con difficoltà, ovviamente che attraverso il concetto di collocamento mirato hanno trovato la giusta collocazione, il giusto imprenditore disponibile, accogliente e in grado di dare le risposte adeguate ai loro bisogni. È veramente cambiato tanto e migliorato tanto. Dire che sono soddisfatto perché sono arrivato, no, non siamo arrivati dove ci aspettavamo di arrivare. Stiamo ancora lavorando per migliorare la situazione.